Kylian Mbappé pensate che avrebbe l'intenzione di andare a devolvere circa 500.000 euro guadagnati durante la competizione dell'associazione Premiers de Corde che va ad aiutare le persone disabili e i bimbi malati con dei programmi sportivi di tipo gratuito. L'uomo che vi ricordo è un famoso cacciatore che pensate appartiene al Paris Saint Germain ed è stato eletto dalla FIFA come il miglior giovane di Russia 2018 sta facendo parlare di sé per via di questa iniziativa che avrebbe o meglio avrebbe intenzione di andare a compiere quella di devolvere ripeto ben 500.000 euro. Bene, è una persona sicuramente generosa, di cuore grande e un giocatore che sta dimostrando non solo in campo sportivo di essere un uomo di grandi cose ma anche in campo, chiamiamolo, di aiuto al prossimo. Bene, un saluto, complimenti a Kylian Mbappé, iscrivetevi al prossimo video.